Sesta parte della diciottesima lezione dell'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Discutiamo ora cosa succede alla trasformata di una convoluzione di due funzioni L1. Noi sappiamo che, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato dell'integrale di Lebesgue, sappiamo che se f e g sono due funzioni di L1r, allora anche f convoluto con g è una funzione di L1 e inoltre abbiamo visto che se andiamo a fare la convoluzione, ricordiamo un attimo, f convoluto con g è calcolato nel punto t, non è altro che l'integrale di f di t meno s per g di s in ds. e abbiamo visto anche che la norma di L1 della convoluzione è minore uguale del prodotto delle norme di f in L1 e di g in L1. Ora, essendo una funzione di L1, possiamo provarne a fare la trasformata, quindi la trasformata di Fourier della convoluzione di due funzioni f e g di L1 nel punto omega, questo che cos'è? E' l'integrale da meno infinito a più infinito di f convoluto con g nel punto t moltiplicato per e alla meno i omega t dt. e quindi, ma la convoluzione è essa stessa un'integrale, quindi abbiamo un integrale iterato, l'integrale da meno infinito a più infinito dell'integrale da meno infinito a più infinito di f di t meno s g di s ds notti, al momento scriviamo così ds tutto che moltiplica e alla meno i omega t dt ora, l'esponenziale e alla meno i omega t siccome t lo possiamo scrivere come t meno s più s possiamo spezzare questo esponenziale nel prodotto dell'esponenziale e alla meno i omega t meno s per e alla meno i omega s e quindi distribuire questi due fattori esponenziali uno sulla f e uno sulla g quindi quello che troviamo è l'integrale da meno infinito a più infinito l'integrale da meno infinito a più infinito porto dentro all'integrale in s l'esponenziale scritto in questo modo quindi abbiamo l'integrale di f di t meno s per e alla meno i omega di t meno s che moltiplica g di s per e alla meno i omega di s in ds dt ora se possiamo scambiare l'ordine di integrazione avremo che l'integrale in t coinvolge solo il primo fattore vediamo se si può fare questa cosa si può fare se possiamo applicare il teorema di Fubini quindi possiamo scambiare l'ordine di integrazione lo chiediamo a Fubini cosa dice il teorema di Fubini quindi se la funzione integranda nelle due variabili è integrabile nelle due variabili ok quindi andiamo a vedere cosa succede all'integrale del modulo della nostra funzione integranda la nostra funzione integranda è tutta questa roba qua quindi se facciamo il modulo che poi sarebbe questa se facciamo il modulo di F di t meno s e alla meno i omega t meno s che moltiplica g di s e alla meno i omega s in ds dt se questo integrale è finito, è convergente allora siamo a posto possiamo scambiare l'integrazione allora gli esponenziali hanno modulo 1 quindi questo si riduce all'integrale del modulo di F di t meno s gs ds dt ma questo l'abbiamo già visto quando parlavamo delle convoluzioni se volete questo lo possiamo pensare come l'integrale qui il modulo si può anche spezzare nel prodotto dei moduli del modulo di F convoluto col modulo di G e nel punto t integrato in dt e siccome qui abbiamo i valori soluti sono tutte quantità positive questo qui non è altro che la norma del modulo di F convoluto col modulo di G in L1 che sappiamo essere minero uguale della norma del modulo di F in L1 quindi la norma di F in L1 per la norma di G in L1 e quindi se F e G sono in L1 questo prodotto è finito e quindi la nostra funzione nelle due variabili ST il nostro integrando nelle due variabili ST è integrabile quindi Fubini dice ok potete scambiare l'ordine di integrazione allora per il teorema di Fubini questo diventa l'integrale sempre in due integrali da meno infinito a più infinito questa volta però integriamo prima in T quindi la T compare solo nella parte della F e alla meno I omega I meno S in dt poi quello che otteniamo lo integriamo in S per G di S e alla meno I omega S di S ma adesso dentro nell'integrale interno possiamo operare una sostituzione se chiamiamo X T meno S quindi trasliamo questo vuol dire che dx è uguale a dt e quindi diventa l'integrale da meno infinito a più infinito integrale quando la T varia da meno infinito a più infinito anche la X varia da meno infinito a più infinito F di X e alla meno I omega T meno S e X e al posto del T mettiamo dx e adesso vedete che qui la S è sparita G di S e alla meno I omega S di S e quindi cosa troviamo? La parentesi interna non è altro che la trasformata di Fourier di F nel punto omega vedete esattamente la definizione quello che non dipende da S quindi possiamo portarlo fuori dall'integrale quello che rimane è l'integrale da meno infinito a più infinito di G di S per E alla meno I omega S in dS ma questo non è nient'altro che la trasformata di Fourier della G sempre nel punto omega e quindi cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che F convoluto con G trasformato con Fourier non è altro che F trasformato con Fourier moltiplicato per G trasformato con Fourier quindi la trasformata di Fourier di un prodotto di convoluzioni non è altro che il prodotto puntuale delle due trasformate quindi l'operatore di trasformata trasforma convoluzioni in prodotti puntuali una cosa simile era già successa anche con la Z trasformata e con la trasformata di Laplace quindi è un è un liet motiv che ricorre in questa trasformata di tipo lineare possiamo vedere un esempio se prendiamo la funzione rettangolo e la convolviamo con se stessa questo è un conto che abbiamo fatto quando abbiamo parlato delle convoluzioni quello che otteniamo è quella che si chiama funzione triangolo la funzione triangolo nel punto T che è la convoluzione della funzione rettangolo con se stessa è una funzione il cui grafico è dato da dei segmenti e ha supporto da meno 1 a 1 e e coincide con la funzione 1 meno valore assoluto di T parte positiva l'abbiamo già visto a suo tempo quando abbiamo calcolato le convoluzioni proviamo a fare la trasformata di Fourier di questa funzione in omega siccome è la convoluzione del rettangolo con se stesso questa sarà la trasformata di Fourier della funzione rettangolo in omega moltiplicata per se stesso cioè al quadrato ma questa funzione rettangolo abbiamo visto che è il seno cardinale di omega fratto 2 pi greco per 1 su pi greco tutto al quadrato e quindi mi verrà 1 su pi greco quadro seno di omega fratto 2 pi greco scusate seno cardinale al quadrato scusate mi sto rendendo conto di avere commesso un errore quando vi ho parlato della trasformata della funzione rettangolo ho introdotto un fattore pi greco che non c'era e quindi infatti mi sembrava strano venisse un pi greco quadro la trasformata del rettangolo era seno di omega mezzi fratto omega mezzi se mettiamo in evidenza un pi greco dentro al seno e al denominatore ecco che mi viene seno di pi greco che moltiplica omega su 2 pi greco diviso pi greco che moltiplica omega su 2 pi greco e questo coincide col seno cardinale di omega fratto 2 pi greco il pi greco che compare al denominatore fa parte della definizione del seno cardinale quindi chiedo scusa anche nelle ispezioni precedenti ho pasticciato un attimo adesso quindi mi correggo la trasformata del rettangolo è il seno cardinale per noi di omega fratto 2 pi greco calcolata in omega e quindi qua mi verrà il quadrato e quindi questa è la funzione seno di omega mezzi al quadrato fratto omega mezzi al quadrato al denominatore e quindi volendo la possiamo scrivere come 4 su omega quadro seno di omega mezzi al quadrato quindi andate a correggere nei vostri punti la trasformata del rettangolo e quindi